Civitas è il centro di coesione sociale più importante del centro Italia, un impegno sul piano della coesione, diciamo, delle persone più adulte che hanno lavorato una vita e che hanno diritto a vivere in quella struttura di circa 240 mini alloggi, di una ventina di alloggi per malattie dalle salme, una ventina di autosufficienti, un pistodromo per l'educazione del codice della strada, con tutto quello che succede e con tanti incidenti, molti dei quali mortali, educare le comunità in generale a rispettare la legalità, a rispettare le norme e in questo caso educare al rispetto della velocità, del codice della strada. E poi un palazzetto dello sport anche, oltre che per le persone, diciamo, tradizionali che hanno più necessità, come le persone anziane, come i bambini, con le persone diversamente abili, è evidente che è un pezzo di città, un pezzo della città di Vallefoglia, un pezzo della vallata, perché comprende un po' tutti questi comuni. E' un'opportunità anche di lavoro, perché il gruppo UER, gli imprenditori che hanno realizzato questo investimento di 50 milioni di euro, prevedono 150-170 posti di lavoro. Se tutto fila liscio entro l'anno e entrerà in funzione, io spero e penso che la Regione debba convenzionarsi con questa struttura, che dà una risposta, non ha una struttura così di grande qualità, un po' in tutta quest'area del centro Italia. Per cui, ecco, per Vallefoglia è una straordinaria opportunità per la nostra comunità, così come è stata una straordinaria opportunità aver fatto la fusione dei due comuni che ha portato un investimento di oltre 20 milioni di euro per i cittadini e le imprese della città di Vallefoglia. E' una struttura privata convenzionata con il comune di Vallefoglia, la città di Vallefoglia. Gli abitanti avranno un abbono del 20%, quelli che andranno dentro queste strutture. E' chiaro che se la Regione prevede, questo qui ho raccontato, i posti letto, e diciamo convenziona, vuol dire che uno paga un po' di meno. Quando porta una persona anziana che ha lavorato una vita in un luogo dove è assistito, è accudito, è trattato a guanti bianchi. E questa mi pare che sia una grande opportunità per tutta questa vallata, ma io direi per tutti i comuni del centro Italia, perché è una bella struttura, una struttura imponente. E quindi speriamo quanto prima che possa entrare in funzione.